musica Adentro, adentro, i primi tre punti della partita per Gaisa, Unisa dà la palla al suo compagno, adesso sta cercando con i tre quarti di far la meta, viene bloccato in qualche modo, viene ordinato, si gioca ancora, palla ancora con Bunisa che dà la libera al suo compagno, ancora percussione, fa senso, pericolo in questo momento, pericolo di meta, avanza senza superità romenica, superità romenica, eccola qua. Eccole qua, la fornamento assieme al settore America, il vantaggio del Piedadana che gioca in questo momento, ancora un'altra impressione, si stanno cercando di ralentare troppo, rinforza l'impressione del Presidente. Adentro, il Piedadana pericolo si gioca a largo, pericolo, 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 pericolo. Ancora c'è il pericolo, si gioca a largo, finta di Andrea Lenti, la palla è lì, la palla è lì, si aggioga. Ancora Sebaglio, Sebaglio che ribalza però guadagna ancora due metri, Presidente la palla, si gioca a largo, pericolo, si gioca fuori, pericolo, pericolo. Pericolo, pericolo, pericolo Pericolo, 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 pericolo Pericolo, pericolo, pericolo